21 maggio compleanno della mia carissima cari il miniati e compleanno del mio carissimo amico andrea cortecci quindi andrea cortecci ne compie 49 addirittura quindi ere geologiche e oggi più che mai come ogni 21 maggio si impone ora dico la verità in un'altra fase della mia vita io a quest'ora ero a pomiciare a flirtare heavy flirting però sono tranquillamente monogamo esatto esatto e quindi mi dedico mi dedico soprattutto ai maschi in cui e oggi era sabato il giorno di vernici c'è una ragazza invece che è passata e che era in tenuta primaverile qui siamo alle montalve siamo alle montalve è un istituto bellissimo altro che c'è qui si sarebbe da fare indagini qui sull'istituto elementalve dove io conosciuto c'è degli affreschi sì io c'ho studi questa è la scuola mia ma non elementare perché ho fatto il dottorato di eccellenza e questo era la sede l'han fatta sobbianza che venivano da buenos aires da ovunque da tutto il mondo io ce l'avevo sotto casa infatti mi odiavano per quello una botta di culo della vita una dietro l'altra cioè ora non diciamo che ecco anche di sculo comunque stiamo qui io l'avevo fissato con vernici andavo a fare il compleanno con andrea ho comprato le moncello crema di whisky proprio un compleanno fuori di testa per dei 47 anni bere mangiare lì ha detto sugo scarpetta ci sarà anche verdino ho preso due baguette perché c'era da fare scarpetta noi siamo almeno in 4 stasera forse anche in 56 e allora ho portato anche le baguette più la crema di whisky detto era indeciso il festeggiato perché ma di whisky e le moncello li ho presi tutti e due crepi la varizia mi sono avanzati i soldi per un pochettino di sigarette che ho comprato e uscendo di casa ho beccato niente meno che verdiani che oggi era il sabato sarebbe stato il primo sabato rispondi pure fai il tuo non ti preoccupare cioè non ci credo bruno varotto bruno varotto gentilissimo ci ha appena mandato 5 euro assolutamente senza motivo molto gentile comunque ricambieremo delle anticipazioni mostroge caro bruno varotto con questi cinque euro anche se questa diretta non li vale perché proprio una diretta estemporanea vedi ti faccio vedere una chiesa fiorentina del ventesimo secolo san pio decimo e verniani che anche lui un'opera d'arte a suo modo e però ecco volevo assolutamente dire questi cinque euro che ti mi hai dato mi segno il nome bruno varotto almeno l'uomo che si fa chiamare bruno varotto ha detto per le sigarette mi fa ridere perché ho appena comprato il pacchetto con gli ultimi cinque euro avevo 20 euro ho fatto la spesa dell'andrea così bla bla la maionese che l'ho portata la francesca e poi per avanzati 6 euro ho fatto e ho comprato le sigarette sei molto gentile simpatico e simbolico a maggior ragione quindi bruno per favore considerati ufficialmente abbonato per un anno a questo canale sei allora qui siamo arrivati e te parcheggi nel posto dove ti pare io vado in via dell'osservatorio che è questa qui c'è casa di andrea la facciamo dire a tutto il mondo così se volete venire a fare gli auguri giri qui qui non ci abita solo cortecci abita anche il professore antonio la penna e voi direte ci abitava ancora vivo all'età c'era 96 anni è il più grande latinista vivente dice ho dato due esami lasciamo perdere e la leggenda dice che della mia media del 30 perché io ho media del 30 affermati io sono qui non entrare dentro ma affermati dove ti pare qui la media del 30 ecco io con la pena lo devo dire io che faccio il latinista e lo diciamo a tutti perché a un fiero sennò indaga e scopre le cose come latinista o da filologia latina storia della lingua latina filologia classica dovevano visto a rompere anzi un giorno fare una diretta sugli esami ho dato tutto quello della mia vita merita di essere raccontato anche l'asilo allora in quel caso due letterature latine che sono il mio orgoglio ho avuto l'orgoglio di darle con la penna che era già vecchio era già fuori ruolo faceva solo gli esami così a rilancio era in procinto della pensione e gli ho chiesto io ho dato latino 1 latino 2 e non ho mai preso 30 io avevo la media del 30 mi sono presentato un 110 per tutti gli ottimi fai fabio gentilissimo abbiamo già fatto 7 euro anche fabio ci manda 2 euro carissimo bruno grazie carissimo fabio grazie anche te fabio con questi due euro riconsiderati abbonato per tutto il prossimo anno con questi due euro siete molto carini e molto gentili e quindi cosa è successo è successo che hai dato due latini con la penna che abita qui in via dell'osservatorio ma nel frattempo oggi era sabato io non dovevo beccare verniani non dovevo beccarlo anzi andrea se mi stai seguendo in diretta sono arrivato sono sotto casa tua e sto per arrivare quindi 10 minuti non avevo beccato verniani scendo e becco verniani becco verniani mi fa la posta sotto casa in maniera bestiale cioè mi fa proprio la posta sotto casa girano voci contrastanti perché lui in realtà abita in piazza puccini con una ragazza che non è neanche italiana ecco questo lo voglio dire mentre la mia donna non so anche se la mia donna si dice che è italiana è italiana girano strane voci comunque allora vive a puccini ma suo padre io ho visto babbo verniani a bocci no cos'hai mi guardi in diretta verniani mi segue in diretta allora allora chiudiamo velocemente siccome non c'era una programma ho voluto mettere comunque mostro di firenze perché ci sono stati tanti contenuti ultimamente una cosa dico alcuni amici il mio amico jonathan molfino mi segnava il nuovo contenuto qui chiede una conferma dell'origine della donna comunque verniani si prende le sue libertà è così allora il baileys il baileys è da donne infatti noi vogliamo siamo donne e io mi sento donna questo lo voglio dire ho voglio la libertà di dire che mi sento una donna però mi piacciono le donne mi sento una donna con un cazzone così mi sento una donna barbuta con un cazzone così e mi piacciono le donne poi il resto essere donna non è un problema anzi il baileys ci piace perché sai come io sono astemia non bevo tantissima allora queste cose comunque ha deciso tutto andrea non conto cazzo quando facciamo queste serate io anche se non bevo bevo decidono loro tutto di me quindi non sappiamo cosa succederà stanotte che sostanze mi faremmo assumere io non conosco uomo non so niente la verità è che avevo beccato verniani lo becco e detto guarda questo è un segno del destino lui mi fa io gli scrocco un passaggio gender fluid brava maria siamo post binari gender fluid mi chiamo anche francesco maria l'ho ospitato 47 anni per essere sul pezzo fashion sul pezzo sono binomiale ed è sempre stato purtroppo vi chiedo scusa l'eterosessualità si è impossessata di me se no avrei eccepito anche se non eccepirei gira voce che ci sarà un giorno vi racconterò tutto ma la cosa importante è questa che becco verniani ho detto verniani questo è un segno del destino cioè la puntata che noi non avevamo fissato di non vederci ce l'avevano lasciata proprio scittare via dopo un sacco di cose non si era detto si fa non si era detto la facciamo e ci becchiamo quindi l'ho preso come un gesto carinissimo lui sempre super signore mi ha fatto scroccare una spuma mi ha detto ti porto a comprare sigaretta a questo punto mi ha scarrozzato fino a dove dovevo andare e io ho guadagnato comunque 10 minuti di cammino perché a piedi col caldo e col sacchetto questo favore me l'ha fatto allora ho detto allora facciamo una diretta finta io vi saluto ragazzi vado a fare il compleanno forse sei pazzi sono di buon umore perché ogni volta provo a fare una diretta e loro non la sanno fare fanno capito non sanno allora se capita l'occasione io guarderò la partita mi farò i cazzi me correggerò un po di esami ho provato anche i compiti da correggere perché faccio la serata lunga e eventualmente se mi viene l'istinto vedo qualcosa facciamo una diretta facciamo una diretta ma non la escludi intanto vi saluto e ho intitolato questa mostro di firenze proprio perché parlavamo con verniani che francesco aveva questa impressione ora di questo se ne ha parlato a lungo e non ho fatica a condividere però un argomento torna gli avvistamenti dei francesi prescopeti a montemorello no questo verniani lo dice e lo può dire perché come me abitando a rifredi che è una zona non toccata dal mostro noi sappiamo siamo alle pendici di montemorello siamo a careggi quindi montemorello la conosciamo quindi abbiamo sempre dirizzato l'orecchio diciamo chissà perché il mostro quando io avevo paura del mostro andando a serpiolle però lui questa zona non l'ha mai toccata l'ha toccata calenzano e borgo san lorenzo ma capito per dire edificiando ma questa questa è un come pontassieve come pontassieve bagnaripoli sono fette che in quegli anni ci si aspettava colpisse infatti hanno richiesto molta energia da parte delle forze dell'ordine per sbattimenti cerchi guardoni denunce l'hanno fatta beh maria si viene a vivere i freddi sei cara caschiamo io spero di restarci però vai tranquilla noi siamo che ti aspettiamo qui se capiti a rifredi aperitivi passeggiate che sempre maria qui ci hanno scritto pinocchio ci hanno dipinto la primavera che pensa che un quadro fondamentale nel canone occidentale come la primavera di botticelli rappresenta l'allegoria della primavera di rifredi noi qui ora siamo in via dell'osservatorio di primavera perché non c'è niente di più bello del 21 maggio infatti il compleanno della caril e di andrea è il giorno più bello dell'anno climaticamente e siamo dove hanno dipinto la primavera la primavera è stata la villa reale di castello per 300 anni poi l'hanno portata agli uffizi ma era stata commissionata dipinta e fatta qui e l'allegoria della primavera qui di qui dell'arcadia neoplatonico di careggi te ne racconto mille se vieni qua non c'è un cazzo da dire su rifredi però io sono storico locale rispetto a firenze non esiste rifredi però c'è sì poi si parla degli operai mi rompo le palle del pignone sì il rinascimentale è careggi esatto allora il rinascimento si è fatto qua a rifredi come dice giustamente verniani che io dicevo c'hanno scritto pinocchio che ricordiamoci pinocchio dopo la bibbia cioè più del corano è il libro più letto e stampato nel mondo l'hanno scritto qui a casa mia perché qui diventi un grande scrittore a vivere qui infatti io ne sono un'altra un'ulteriore prova eccetera eccetera poi cosa stavamo dicendo ecco quindi quando si parla di monte morello adesso verniani ci dice la sua sull'avvistamento dei francesi a morello che è dall'altra parte del posto verranno ammazzati il giorno è soltanto una questione pratica perché appunto la piazzola degli scopeti è sulla strada principale una strada si però venendo da sud no ma non ti ho tanto dalla dalla loro provenienza che è chiaro qui siamo a nord di firenze quindi magari c'è un'uscita dell'autostrada questa è una zona di collegamento maresi con il germano dal mare avessero preso la firenze mare sono usciti per dire lì all'aeroporto se invece sono hanno preso la forno perché hanno fatto un pezzo da aurelia e hanno sono andato a imboccare l'altra cosa usciti laggiù verso verso scandici e prima prendendo la la petto regali facendo le bagnese scollinavano arrivavano a tavarnuzze la via e dopo va su a san casciano sì in effetti anche proprio la parte non arrivano dal sud uscendo all'aeroporto qui che cavolo ci vengono a fare a montemorello perché vogliono andare a montemorello montemorello è più vicino alla città di di scopeti forse però un giorno la facciamo la strada per andare in castellina certo è qui la fabbrica per arrivare in castellina come minimo hanno detto o c'erano stati già prima allora 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 si vede sesto neanche se ne finesse si gioca sull'identificazione di tal come si chiama lui ceri il guardia caccia il guardia caccia che fa questi riferimenti ora mi pone un problema perché la categoria dell'avvistamento fittizio della coppia è una categoria che emerge interessantemente a scopeti e a vicchio anche a vicchio c'è un tipo che gestisce un bar che dice di aver visto rontini stefanacci quando nessun altro le ha viste ma lui gli dice di averle visti così ci sono per i francesi ceri a montemorello e c'è anche la gente che a voi vi sta sullo gozzo perché li vede la domenica allora quelli che vedono i francesi la domenica e quelli che vedono i francesi a montemorello quelli che ha visto ceri mi interesserebbe ma ceri è troppo distante poi poi ecco una cosa che io ancora aspetto di esaminare tutti i dati di scopeti è in quando lo colloca perché mi sa che ceri pone una data che non è assolutamente realisticamente compatibile con la tabella di marcia dice le ho visti il 4 settembre dice le ho visti il 4 settembre a montemorello quando risultano a suon di scontrini estero in francia e in versilia avuto avrà visto anche dei turisti francesi è questo dice ma ha mandato una coppia dei turisti francesi ci sono andati comunque francesco è così lo stesso si dica anche di tal baldo bardazzi che dice di aver visto una scena peraltro realistica credibile con tre personaggi anonimi che non puoi identificare la coppia e quello che li guarda male vai in castellina torna in mare ti ha fatto cacare la castellina quando mandato via perché montemorello non è alla castellina la castellina lo sai dove è un terrazzino sotto montemorello che noi raggiungiamo in tre minuti da qui loro attendati a montemorello me li mangiano la castellina dove c'è il monastero si e dove si va a pomiciare lo so conoscendo la castellina dove si sono accampati loro e su nella salita ok quindi vicino alla castellina vicino a palestretto dovrebbe essere vicino alla castellina o erano andati a betrusca o erano andati a betrusca forse sono andati a betrusca comunque diciamo anche la mula la montagnola però te cosa vi hai detto una cosa che ti volevo debuncare importante e ora vado insomma insomma non mi ricordo più interessante interessante questo per scopetti ma più che altro ecco poi ieri avete visto lunga trasmissione di marco fiero che ho di cui ho preso stentore tutto franzo volevo fare una trasmissione pro franzo nel senso sento il documento sull'opi e voglio dire ma marco ma se uno si prende una tua puntata e si mette a contare gli errori di grammatica o di o lessicali o sintattici ti fa anche più culo di quello che ha fatto franzo cosa vogliamo dire che il dato di nozione è più importante della forma con cui si parla della proprietà lessicale è meno importante del dato informato come dire la macchina è bianca o altre cose importanti e i difetti informativi di insufficienza di prove sono sotto gli occhi di tutti per quello è uno strumento per chi studia e non per i neofiti come dici te ti dici non è uno strumento per neofiti perché lì li devi elaborare da solo i dati li devi gestire solo che siccome il concetto di registrazione di piano di studio le parole le usiamo ma sapere cosa significano le parole è tutta un'altra cosa sennò veramente la laurea non conterebbe un cazzo come pensano e dicono a Uffiero e altre persone e quindi carissimi ecco a dire io non so un cazzo non so un cazzo te non sei un cazzo io sono un fiorfiore di professionista con vent'anni di esperienza professionale di eccellenza quindi certo non mi riduca a fare come Uffiero io non so un cazzo se è la tua opinione no non esistono opinioni le opinioni esistono nel salotto di Marco Uffiero chi fa ricerca storica e scientifica non c'è spazio per le opinioni se uno è bianco la fiorentina è gialla chi chi ha ammazzato le coppiette non è un'opinione tutto quello che pertiene alla balistica alla scienza non è un'opinione non è opinabile è una verità inconoscibile è un concetto un po' diverso ma sai com'è Verniani che ha fatto il tecnico non ha studiato filosofia quindi che cazzo gli vuoi dire io ho fatto il tecnico esatto quindi non hai fatto filosofia guarda nel mio schermo vedo una figura femminile nella mia telecamera che ora è sparita comunque te sei bravissimo anche Marco è bravissimo però capito io sono un'altra cosa questo volevo dire la mia è un'opinione ecco le opinioni attenti a contrapporle alle verità scientifiche perché la scienza esiste la cultura esiste sì ma si è capito si forma si costruisce una dottrina non si può opinare sulla cura contro il cancro anche se noi siamo insicuri sulla cura contro il cancro non è che abbiamo la cura contro il cancro ma non ci si opina sopra capito l'opinione vi state impossessando di una forma culturale che credete abbia la stessa dignità di chi studia veramente eccetera eccetera questo sto dando del vuoi a Verniani posso dire la strozzare le 19 e 16? no no rispondi male rispondi male male no lui è molto bravo comunque Verniani è bravo dillo 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 allora se hanno avvistato i turisti francesi alla Castellina c'è un problema c'è un problema di data non c'è niente Ceri dice il 4 è impossibile loro il venerdì 7 arrivano a Firenze prima di andare in mare sono andate a vedere le tombe trusche bene allora le giustificazioni turistiche per Montemorello sono infichite dovevano andare a chiedere il teatro romano a Fiesole se li avevano avvistati per dire con le foto loro ma Ceri è uno dei tanti buona volontà tipo Bardazzi che viene e dopo il delitto dice le ho visti qui le ho visti qui ognuno risponde alla propria testa però Ceri è confermato da un collega Ceri è confermato da un collega mi sembra che non erano sentore di queste cose stavo guardando anche la documentazione giornalistica tedesca su i due di Giogoli cazzo non c'è un cazzo è un delitto ignorato sapete chi ha portato il delitto su? wikipink solo wikipink cioè lgbtq che lo catalogano e questo è una presa di posizione come omocidio lo catalogano come omocidio si spingono l'interpretazione wikipink che fa l'elenco degli omocidi e degli omicidi contro ce ne sono tanti anche a Firenze include il delitto di Giogoli che è l'unico cioè non altri delitti del mostro di Firenze ma include quel delitto del modello che chiama omocidio voi sapete che nell'interpretazione della vicenda c'è chi crede che il mostro abbia ripiegato per una coppia omosessuale ma consciamente non che fa l'errore come alcuni hanno detto ma che abbia ripiegato intenzionalmente a fine settembre a fine estate 83 con quello che passava il convento nelle piazzole che presideva lui e che comunque arriva a mantenere e a conservare il messaggio del mostro anche senza scissione ovvero io uccido chi si apparta in campagna a Firenze l'elemento dell'intimità cioè anche il suggerire che Uwe e Wilhelm fossero impegnati in effusioni ma erano in effusioni ti faccio presente che uno è supino e l'altro è prono uno è con i glutei scoperti comunque va bene basta questa è la puntata vado perché Andrea si sarà arrambiato il sesso chi lo sa ma volevo dire quindi lo studio sull'otti appunto a stare dietro alla declarazione dell'attendibile si perde la strada per tornare a casa assolutamente comunque lo studio sull'otti di Flanz è un lavoro estremamente prezioso che come al solito come tutto quello che fa Flanz ti permette perché giustizia mancata scoperti giustizia mancata ma scusate ma è tutto il resto e oltre a quello che fa lui perché lui adesso fa il Flanz speaker e quello è una cosa ha fatto un Flanz writer Flanz speaker ma anche Flanz archiver perché c'è il merito della disponibilità gestione e regestazione e razionalizzazione del materiale le schede azeta che non si fanno così facendo snap le trascrizioni di tutti i processi siete degli ingrati libere, messe libere senza fottute trademarks poi gli studi anche di oltremari spazio a chiunque, a cani e porci a tutti, a tutti, a tutti, a tutti il canale con il Sant'Andrea quindi una pletora, un'enciclopedia mostrologica propriamente detto intesa come mostrologia che nasce come istanza di critica alle sentenze quindi è giusto che animi e contempli e legittimi anche orizzonti che noi giustamente combattiamo ma non combattiamo l'approfondimento della vicenda perché se io volessi tagliare la testa a Flanz e tagliando la testa a Flanz se si tagliasse la testa a insufficienza di prove lo prenderei in culo io se io eliminassi Flanz sarei ingrato ma sarei ingrato perché tanto non lo viene a vedere ma come le merde che usano le mie parole, i miei concetti io sono la persona che ha più lanciato vocaboli in mostrologia la gente che comincia ad usare esegesi e durre e ora da esegesi io comincio a dire diegesi perché ora sono in fase diegetica la gente solo Vic White sa che cazzo è il verbo greco exegeo mai e da qui deriva esegesi se no non sanno allora la usano, metto la parola e poi non me lo riconoscono mai ma non dico la parola, i concetti, le prospettive vedo tutto quello che ho scritto e detto ritornavi col cazzo che me riconoscono perché stavo dicendo questo? ho ripreso il filo di nuovo comunque salutiamo gli amici e chiudiamo perché non ha senso abbiamo fatto già 20 minuti tutto è importante vero? come si? andiamo a giro la prossima volta facciamo dirette esterne ciao Giordolivia ciao Marcello ciao a tutti a Giordoli dice che è un errore Marcello ma io non ci credo ciao Davide ciao Davide ergazomai ecco un'intenzione che non puoi capire Verniani ergazomai è il verbo che vuol dire io lavoro che ha dato quando ti dice ergastolo energia ergo energo tutto quello che è lo sforzo ergon ergazomai bravo l'ergastolo bravo Davide Felici ergazomai mentre invece gli diceva ergazomai 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 è un grandissimo Felici ergeomai ergazomai è elson ergazomai 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 e poi traslato in interpretazione bene bene non fate parlare di greco che io non so un cazzo adesso si si ma vedi non è possibile super cazzare perché Davide Felici controlla tutto e dice ergazomai ergazomai prima persona bravissimo Davide allora saluti a tutti scusate siamo di corsa ma Verniani che noi non facevamo la puntata beh Carlo ha detto dai facciamo la diretta lui no 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 facciamo la diretta assolutamente pochi argomenti allora mi sembra eccessivo dedicare una puntata contro Flanz perché ti ripeto Marco prendiamo una puntata tua e contiamo tutte le cazzate grammaticali che dici ti dice ma io sul mostro sono preciso ma 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 attenzione guarda che la correttezza formale inchinati di fronte a come parla Cappelletti a come si esprime a come razionalizza che a te che non è mai forza viola ma soprattutto ma soprattutto ma ora anche quello è un altro discorso però ti dico soprattutto soprattutto impara da come si parla quello lo devo imparare anche io perché quello ce l'hanno sia Flanz che Cochi che sanno stare come delle sfingi davanti alla telecamera e sanno parlare allora ma ancor più Cappelletti che ti sciorina in un contenuto così denso tra 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 con il materiale video di di quindi impara come si parla come si sta davanti alla telecamera con quella dignità guarda veramente un personaggio ma loro meritano il nazionale perché studiano bene hanno fatto tutto quello è proprio da nazionale comunque la penso come Marco sul mostro di Firenze la penso come te ma vai a prendere tutto quello che di positivo e utile c'è per te in insufficienza di prove che ancora non l'hai sgraffignato bene tutto quello che c'è e poi dopo appunto ringrazio perché del resto non ce lo inventiamo noi no? non è che flanzi vici antipatico simpatico utile inutile cioè veramente cioè sì ah fai i punti ora verrebbe da farlo su una tua cioè cazzo troviamo 12.000 errori non sai usare le parole magheggiare magheggiare impari una parola ripeti 12 volte mischi i registri massimo rispetto Marco sei il miglior mostrologo lo sai però che senso ha sparare contro sono visioni diverse del caso ma dei pochi quelli che hanno le visioni diverse li conosciuti perché hanno lavorato segnini power full e flanz li conosci perché hanno scritto roba e va rispettato e soprattutto te lo dico Francesco io non rispetto il lavoro degli altri mi fa cacare ci piscio sopra il lavoro degli altri lo apprezzo quando vale qualcosa perché dire come dire l'esperienza l'anzianità il lavoro che cosa è come dire i miei studi i miei studi è una stronzata diffidate di chi dice i miei studi diffidate di chi dice il mio lavoro perché il lavoro solo perché hai scritto un libro lo devo leggere no non è perché hai scritto un libro le cose di valore che quando vedi cosa sono gli studi di power full segnini e flanz sono lavori che se lo guadagnano rispetto non è che non è che non lo merita non lo merita come chi parla male di miei film è un cretino chi parla male di film è un cretino allora il lavoro serio chi lavora serio chi ha talento chi ha capacità lo riconosce dice cazzo guarda eccepisco su questa cosa questa cosa questa cosa questa cosa questa cosa e questa cosa per dio però complessivamente no perché è facile scrivere i commenti sui social fare le dirette improvvisate parlare a rant tre ore tanto è gratis per tre ore c'è loro che si prendono la briga di ascoltarti fai una cosa come il documentario fai una cosa di due ore dove non ci sono dove hai scritto prima è un format che te non riconosci perché sei un performer benissimo benissimo forza viola forza viola di come non guffate allora saluti a tutti ergazzo ma io non sono riuscito a vedere la puttata del ferro non capisco se andava in buffering la connessione oppure lui anche io ho visto pochi pezzi ho visto pochi pezzi ho visto pochi pezzi Marco è sicuramente bravissimo io aspetto di rientrare nel canale con Marco appena mi contatta mi offre i soldi mi chiedi scusa sono prontissimo a presto ciao bellezze a presto ciao belli ciao 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 ciao